a quello gli ha rubato le pizze Ehi ragazzini, non si gioca in mezzo alla strada? Sì, mister Spider-Man Ci vediamo Ma che è che vuoi? Aspetta, non va, uno trasino, 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 trasino Ha rotto, trasino Non parla Ciao, ciao di sera Pizza al volo Sei in dettaglio E non te ne pago Ascensore Garanzia, giù consegna entro 29 minuti e hai promesso, bello? So che per te promessa non significa niente Ma per me è cosa seria È seria anche per me, signor Ascensore Licenziato, va Me la prego Licenzia Mi dia un'altra occasione Sei licenziato? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti